Il fuoricasa rende l'Italia migliore è il titolo del nuovo rapporto Italgrove-Census. Ascoltiamo i commenti di Sara Lena, ricercatrice del Census, e di Antonio Portaccio, presidente Italgrove. Orica Short News è offerta da... Ferrarelle, per la tua sete di piacere. Montelvini, alleati nella sostenibilità. Convera, la classe e acqua. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Orecaccia nell'Italia. Oggi parliamo del nuovo rapporto Italgrove-Census, dedicato al mondo dei consumi fuoricasa, che sarà presentato ufficialmente alle istituzioni domani in un convegno nella sala capitolare del Senato della Repubblica. Il fuoricasa rende l'Italia migliore. Un titolo assolutamente calzante per un settore l'oreca, che è uno degli assi portanti della vita economica e soprattutto sociale dell'Italia, e quindi del benessere dei cittadini. Quali sono i punti cardine di questo rapporto? Lo abbiamo chiesto a Sara Lena, ricercatrice del Censis. Un saluto agli ascoltatori di Orecaccia nell'Italia. La presente edizione parte dal senso che assume la convivialità per le persone, non solo come desiderio e bisogno individuale, ma in particolare come componente decisiva del benessere collettivo. Infatti la convivialità non è un tratto folcloristico della società italiana, ma ha una sua specifica proprietà che la distingue in meglio da quella di altri paesi, perché la rende meno triste e meno depressa, migliorando anche la vivibilità dei territori. Una presenza equilibrata del fuoricasa significa infatti disporre di una formidabile piattaforma di creazione di relazioni, che coinvolge le persone residenti in loco, quelle che lo raggiungono per fruire dei servizi, e quelle che magari si limitano a recarvisi per passeggiare in un contesto frequentato da tanta gente e percepito come vibrante. La diffusa rete degli esercizi pubblici del fuoricasa contribuisce quindi a generare relazionalità e una società intessuta di relazioni ha più forti anticorpi per resistere alla solitudine di massa e al rischio di conflittualità tra identità autoreferenziali. Ecco i punti cardine della presente edizione. ORECA come luogo di socialità, un fattore che distingue e allo stesso tempo valorizza il nostro paese e con ulteriori plus che emergono dal rapporto. Una società come quella italiana, con tanti luoghi di incontro, di convivialità, è meno esposta alle nuove forme di conflittualità e violenza. Ci distinguiamo per un più alto tasso di socialità rispetto a paesi omologhi, in cui l'individualizzazione dei percorsi di vita ha prevalso su ogni forma di legame sociale e attività collettiva, generando un vuoto sociale evidente. L'Italia, malgrado sia stata anch'essa, investita dall'individualizzazione degli ambiti di vita, è percepita come un paese in cui gli spazi pubblici sono ancora molto segnati dalla convivialità, cioè da una relazionalità positiva, diffusa, che arricchisce e completa le vite individuali e familiari. Inoltre, la nostra abitudine quotidiana alla relazionalità ci ha preservato da alcune derive regressive potenziate dal web e dai social, cioè l'attitudine a stare con persone che la pensano come noi e ad essere verbalmente aggressivi verso chi la pensa diversamente. Il fuori casa, come insieme di spazi pubblici che rendono possibile l'incontro e la coesistenza, nello stesso spazio e nello stesso tempo di persone non necessariamente uguali, ha quindi oggi un valore ancora maggiore. È essenziale il ruolo che svolge nella creazione di comunità aperte e rifrattali e identità autoreferenziali incapaci di coesistere negli stessi luoghi con le loro diversità. Diamo ora spazio alla federazione coautrice del rapporto sul fuoricasa italiano, Italgrove. Ascoltiamo il presidente Antonio Portaccio. Il terzo rapporto Italgrove-Census, dal titolo Il fuoricasa rende l'Italia migliore, completa la trilogia sui consumi fuoricasa. Tre specifiche pubblicazioni a cadenza annuale con le quali la federazione Italgrove, in collaborazione con Incensis, ha voluto e saputo mettere in luce la straordinaria valenza del mercato dei consumi fuoricasa, evidenziando nello specifico il prezioso ruolo del distributore Food & Beverage. Una categoria di operatori che da sempre è un pilastro imprescindibile del fuoricasa, settore fondamentale nell'economia italiana per numero di imprese, occupazione e redditi che riesce a distribuire. Un settore che, contemporaneamente, è di grande stimolo per il turismo e concorre, come pochi, a promuovere la cultura gastronomica del territorio. Ma soprattutto, come recita il titolo di questo rapporto, il fuoricasa rende l'Italia migliore. L'Oreca quindi come fattore di crescita sociale ed economica verso il quale la politica e le istituzioni dovrebbero prestare maggiore attenzione. Distributori Oreca, categoria trainante per il mercato dei consumi fuoricasa, quindi anche distributori di valore. Una platea, secondo le ultime analisi della società Trade Lab, composta da 3.400 aziende specializzate in Food & Beverage, operatori che a loro volta riforniscono giornalmente il mercato dei punti di consumo, che conta almeno 330.000 locali, bar, ristoranti, pizzerie e altri 11.550 locali che fanno parte della ristorazione in catena, oltre a circa 33.000 hotel. Un mercato che al consumo vale 99 miliardi di euro e che quest'anno sfonderà certamente la fatidica soglia di 100 miliardi, anche in forza agli aumenti dei prezzi al consumo, che comunque va puntualizzato, sono in frenata rispetto al biennio 2022-2023. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e buona continuazione di giornata. Grazie a tutti.